Presentata presso il circolo Croin d'Arsena, la candidatura dell'avvocato Filippo Antonini nella coalizione di sinistra Viareggio Bene Comune, appoggiata da SEL. Secondo i rappresentanti della lista, il panorama politico viareggino per le prossime elezioni appare estremamente frammentato, con PD e centrodestra divisi al loro interno e quindi con questa candidatura si è inteso raggruppare tutti i comitati e movimenti viareggini insieme alle forze politiche di sinistra per presentarsi uniti all'elettorato. Antonini spiega così le ragioni della sua candidatura. Le ragioni principalmente sono perché secondo noi, secondo la nostra analisi, Viareggio è in uno dei peggiori momenti della sua storia dal dopoguerra ad oggi quindi ci vuole l'impegno di tutti e naturalmente il nostro impegno è connotato a sinistra il nostro impegno si colloca sempre sulle tematiche, sul territorio che portiamo avanti in basso a sinistra questo è uno slogan della nostra campagna elettorale. Per risollevare Viareggio dalla crisi attuale, le linee guida del programma prevedono il coinvolgimento di tutto il mondo civile e politico viareggino. Sì, le ricette ora senza entrare nel merito dei singoli problemi la ricetta è soprattutto a mio avviso una quella la democrazia diretta e la partecipazione di tutti i cittadini che si impegnano nel sociale, si impegnano in tutti i settori della città che diano il loro contributo e ci sia un continuo scambio tra la futura amministrazione comunale che spera che sia la nostra e le istanze sul territorio che portano avanti le proprie lotte e le loro rimedicazioni. Grazie. Grazie.